Due latitanti, ricercati entrambi dal 2016, sono stati arrestati a palmi dai carabinieri della locale compagnia unitamente ai militari dello squadrone li portato a Cacciatori Calabria della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro e a personale del commissariato di Gioia Tauro, a conclusione di un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Reggino, direzione distrettuale antimafia. Si tratta di Salvatore Ezzi di 44 anni e Salvatore Palumbo di 37. Entrambi sono ritenuti legati alla cosca Mole Piro Malli di Gioia Tauro. Ezzi deve scontare una condanna a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa, mentre Palumbo è stato condannato per traffico di droga. Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata sono state rinvenute due pistole, una delle quali con matricola brasa e vario munizionamento, nell'immediata disponibilità degli arrestati che comunque non hanno posto alcuna resistenza. Al termine delle formalità di rito sono stati associati presso la casa circondariale di Palmi a disposizione della competente autorità giudiziaria.